Salve ragazzi, buona domenica e benvenuti a Weekly News, la rubrica settimanale di Gamesquare.it che raccoglierà per voi le notizie più importanti degli ultimi 7 giorni. Cominciamo questa puntata con l'annuncio più importante della settimana, quello di Far Cry Primal. Protagonista di un misterioso live stream e rivelato per errore da IGN Turchia, il gioco ci porterà all'età della pietra e ci farà impugnare armi come lance, archi e clave per cacciare belve fameliche e procurarci cibo per sovravvivere. Il setting pare essere molto originale e siamo curiosi di toccare con mano le novità apportate dall'assenza delle armi da fuoco e dall'ispessimento delle meccaniche survival. Il gioco arriverà il 23 febbraio su PS4 e Xbox One e un mese più tardi su PC. Bungie ha infine introdotto le microtransazioni in Destiny. Il venditore Special Order Tess Averis avrà infatti nel suo catalogo 18 nuove emote che non potranno essere acquistate con i Glimmer, la moneta del gioco, ma esclusivamente con i Silver, una moneta premium acquistabile esclusivamente in soldi reali, grazie alla quale potranno essere effettuati acquisti anche dalla Eververse Trading Company. La Software House fisserà il prezzo della nuova moneta e delle emote il 13 ottobre e garantirà un po' di Silver a tutti i giocatori attivi. Crystal Dynamics ha confermato il prezzo e i contenuti del Season Pass di Rise of the Tomb Raider. Il pacchetto sarà acquistabile in due versioni differenti, la Standard al prezzo di 69,99€ e la versione Deluxe al prezzo di 99,99€. Queste due versioni conterranno entrambe 3 nuove aggiunte per la campagna single player. Potremo tentare di sopravvivere in condizioni estreme con alcune missioni in modalità stuicismo, esplorare una tomba che nasconde terribili segreti in Baba Yaga e il Tempio della Strega, oppure respingere ondate di predatori infetti grazie al risveglio della fredda oscurità. Ricordiamo che il gioco è previsto in uscita per il 13 novembre su Xbox 360 e Xbox One, per inizi del 2016 su PC e per la fine dello stesso anno su Sony PlayStation 4. Sony Band Studio, il team dietro lo sviluppo di Syphon Filter, sta lavorando ad un gioco esclusivo su PlayStation 4 che promette essere enorme. In questo senso, alcuni rumor, non sappiamo se fondati o meno, ci hanno svelato alcuni dettagli relativamente al progetto. Il gioco dovrebbe essere un horror open world ispirato a The Last of Us e mosso dalla Real Engine. Epic stessa starebbe collaborando per spremere al massimo le potenzialità della console. Ovviamente si tratta ancora di rumor, ma dobbiamo ammettere che siamo estremamente curiosi. Con la prova da parte della stampa specializzata di Deus Ex Mankind Divided, sono emerse diverse informazioni interessanti riguardanti l'ultima fatica di Edons Montreal. Il level design del mondo di gioco è ancora più vario rispetto al predecessore. Ora le mappe si sviluppano molto anche in verticale per garantire tante possibilità di approccio. Il combattimento non sembra essere l'unica strada perseguibile, le capacità oratorie di Adam Jensen ci permetteranno di evitare qualche scontro o di portare dalla nostra parte un determinato personaggio. Le modifiche toccano anche le fasi shooting, ci si potrà mettere in copertura semplicemente correndo verso un riparo e le augmentation potranno essere attivate spendendo l'energia delle batterie che si ricaricherà automaticamente. Una novità, anche la possibilità di modificare le armi, addirittura nel bel mezzo di una missione, a cui potranno essere aggiunti una serie di gadget grazie ad attacchi secondari. Informazioni anche sul finale, che ci negherà la possibilità di effettuare una scelta come avvenuta in Human Revolution, ma che si plasmerà in base alle scelte del giocatore durante la campagna. Il gioco arriverà nei negozi per PC PlayStation 4 e Xbox One il 23 febbraio 2016. Teltel ha annunciato il quinto episodio della serie di avventure grafiche Tales from the Borderlands, ispirate al mondo creato dai ragazzi di Gearbox. Si chiamerà The Vault of the Traveler e arriverà il 20 ottobre su PC, PlayStation 4 e PlayStation 3, il 21 su Xbox One e Xbox 360 e il 22 ottobre su iOS e Android. Nel mentre attendete la data d'uscita potete scaricare gratuitamente su mobile e console il primo episodio della serie. Arrivano ora le notizie flop e top della settimana. Konami ha rilasciato una patch per Metal Gear Solid V e The Phantom Pain che rende disponibile per giocare anche Metal Gear Online, attivo dal 6 ottobre esclusivamente su console. Tuttavia, non tutte le novità di questo aggiornamento sono positive. Si segna infatti l'aggiunta di altre micro-transazioni a fianco di quelle relative al potenziamento della Mother Base. L'azienda giapponese ha inserito l'assicurazione FOB, grazie alla quale i giocatori verranno rimborsati dai materiali sottratti dai nemici durante le missioni FOB. Per la prima volta l'assicurazione sarà gratuita, ma dalla seconda in poi dovrà essere pagata in MB Coins. Chiaramente gli utenti sono su tutte le furie, speriamo che la situazione non continui a degenerare o ci troveremo a pagare addirittura l'IMU sulla Mother Base. Una bella notizia per tutti gli amanti delle avventure grafiche. Adventure Productions ha finalmente tradotto Goodbye Deponia, terzo capitolo della serie di avventure sviluppate da Detalic Entertainment, nella nostra lingua. La campagna su Appela è stato un successo e ha permesso anche di ingaggiare doppiatori professionisti che hanno effettuato un ottimo lavoro. Il gioco, italianizzato in Addio Deponia, è acquistabile anche in formato fisico al prezzo di 19,99€. Si conclude qui questa puntata del Weekly News e noi come di consueto vi invitiamo a visualizzare il nostro portale web www.tokensquare.it, le nostre pagine social Facebook, Google+, Twitter e Ludo Media e a visionare la descrizione per raggiungere tutte le notizie che abbiamo citato fino ad ora. Noi come sempre ci vediamo domenica prossima.